Presidente, la sua conduzione dei lavori, ed è questo uno degli argomenti di cui noi parleremo in conferenza di Capigruppo, io penso che sia corretto discuterne in quella sede, perché quello che è accaduto quest'Aula oggi, e prima di quest'Aula, in Transatlantic, nel corridoio delle commissioni, dove ai parlamentari è stato impedito di entrare in commissione, e lei doveva aprire questa seduta criticando questo atteggiamento dei colleghi del suo gruppo, Colleghi, per favore, colleghi, colleghi, smettetela di urlare, collega Rosato non la sento, sta solo urlando ma non la sento, collega Di Maio lei mi sente benissimo, collega Fiano la richiamo all'ordine, collega Fiano, collega Fiano la richiamo all'ordine per la seconda volta, collega Fiano la richiamo all'ordine, collega Fiano, collega Fiano si allontani dall'Aula, si allontani dall'Aula, colleghi, colleghi, collega Fiano si allontani dall'Aula, collega Fiano il comportamento che ha assunto è inaccettabile, si allontani dall'Aula, Colleghi, smettetela di urlare, devo sospendere la seduta, la seduta è sospessa. Grazie. 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 Grazie.